Non si placano le polemiche sulla mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale della mozione proposta dal centro-sinistra per la messa al bando di manifestazioni organizzate da associazioni e gruppi di ispirazione fascista. Il documento era stato presentato dopo l'assalto alla CGL di sabato scorso. Il primo firmatario era Stefano Albano, che parla di una brutta pagina per la città, una sorta di bufera dopo che il sindaco era stato anche in CGL ad esprimere solidarietà. Ma questa si fa cogliatti a ribadito Albano, mentre è passata la risoluzione di Ersilia Lancia, di Fratelli d'Italia, che secondo il centro-sinistra però esprime solo una vaga solidarietà. Il sindaco ha definito la nostra mozione un atto di prevaricazione, ma è prevaricazione chiedere a un'associazione richiedente uno spazio pubblico, piuttosto che un patrocinio, un contributo comunale, chiedere di firmare prima una dichiarazione di impegno antifascista e che la propria associazione aderisce ai valori contenuti nella Costituzione. È un atto di prevaricazione favorire dei percorsi educativi nelle scuole in tal senso, piuttosto che chiedere alla polizia locale di vigilare che sul territorio non ci siano violazioni della legislazione in materia, in particolar modo che non ci sia diffusione di materiale che inneggia l'odio, la violenza, la discriminazione di qualunque genere. Io penso proprio di noi e credo che questi si possono definire impegni concreti. L'Aquila avrebbe dato un grande segnale, prima in Abruzzo e come sempre un'occasione persa. Trovo poi assurdo invece il documento che ha presentato il centrodestra, molto stringato, in cui si limitavano a dare una vaga solidarietà alla CGL e registro che forse non gliene fregava nulla dal momento che erano talmente in pochi che sarebbe mancato il numero legale. La votazione si è fatta perché l'opposizione responsabilmente è rimasta in aula. Dall'altro canto c'è il centrodestra che spiega perché ha bocciato la mozione. Per il capogruppo della Lega, Francesco De Santis, il centrodestra non vuole affrontare battaglie antistoriche. Noi siamo in un'Unione Europea che ha votato qualche mese fa una risoluzione per impegnare tutti gli Stati membri a non esporre, a non utilizzare simboli dei totalitarismi, sottolineando come sia anche l'Unione Europea spaventata da alcuni paesi che utilizzano perfino con scopi pubblicitari simboli del comunismo. È roba novecentesca e così ci sembra assolutamente strano che gli eredi politici o comunque coloro che si ritengono tali del partito comunista italiano e russo continuino adesso a voler fare la morale democratica agli altri. Tra l'altro questa è una città che non ha alcun pericolo fascista. Il pericolo fascista è stato battuto nel 1945, è finito lì, la strategia della tensione che hanno vissuto i nostri padri noi non vogliamo viverla, quindi sono le forze dell'ordine, sono i tribunali che devono decidere se qualcuno è fascista, anticostituzionale o meno, non è certo il Consiglio Comunale dell'Aquila, non siamo certo noi che col fascismo non c'entriamo niente.